Teresa, giornata del FAI, una giornata che avete organizzato dove? Abbiamo organizzato a Ciro ed è incentrata sulla figura di Luigi Lilio, questo importante scienziato che ha reso tanto per la Calabria e anche per tutti noi. In tutto questo c'è anche una formazione per gli studenti? Sì, la formazione è stata molto accurata e gli apprendizi di Ciceroni sono del liceo scientifico d'Orisio di Ciro che hanno veramente sposato la causa studiando e preparandosi molto adeguatamente, veramente con molta cura. Con molta cura perché chiaramente incontrare poi i turisti o i cittadini anche di altri del nostro territorio e dover dare a loro le informazioni è fondamentale. Certo, perché chi viene ha diritto ad avere una bella visita, poter visitare tutto, ammirare ma conoscere anche i particolari storici e scientifici in questo caso del personaggio. Il progetto del FAI è quello di tutelare l'ambiente? La missione del FAI è quella di tutelare, promuovere, far conoscere anche gli ambienti poco conosciuti e tutelare principalmente l'ambiente. Quindi tutto quello che ci circonda e tutta la natura di cui siamo fortunatamente ancora abbondantemente forniti.